Quello che racconta questo film è qualcosa che potrebbe essere a 30 centimetri da voi e che naturalmente avviene e si consuma nel segreto di una stanza, nel segreto di una intimità che definire sporca è fare solo un complimento, anche il modo in cui il violentatore stesso gli dice adesso sei un uomo. Vedendo il corto di Veronica sorprende perché coinvolge e sconvolge proprio perché ha una sapienza cinematografica di interpretazione degli attori, di scrittura e questo lo rende ancora più potente. Ritengo il cinema il più grande strumento di comunicazione globale, persino più di internet. Il cinema veicola non solo dei concetti e dei messaggi ma denuncia delle realtà che il giornalismo spesso fatica a spiegare mentre invece il cinema e quindi lo spazio di un film dà la possibilità di spiegare tutte le dinamiche che stanno all'interno di una problematica e quindi far sì che lo spettatore non ne sia solo spaventato ma anche incuriosito per andare fino in fondo e capire un problema. Il cortometraggio è nato dopo la sceneggiatura del lungometraggio, è nato da un'esigenza di produrre questo lungometraggio e di far capire al pubblico anticipatamente, un pubblico generalizzato ma anche di produttori e finanziatori quale sarà l'anima del lungometraggio senza spaventarli perché la cosa più difficile è parlare di questo argomento senza spaventare. Io spero di esserci riuscita col cortometraggio e spero che l'ironia di Antonia Sanquan che ancora nel corto non è venuta fuori ma nel film sarà dirompente riuscirà un po' a mitigare gli angoli di una tematica così spigolosa. Noi siamo più che convinti che il cinema è uno dei canali più importanti per offrire a chi guarda un film non soltanto la documentazione del fenomeno ma soprattutto la possibilità di avere una coscienza che si formi e che reagisca. Il problema dell'abuso sessuale sui minori di conseguenza della pedofilia e della pedopornografia deve essere aiutato dal cinema perché il cinema permette la possibilità non soltanto di una denuncia tanto per essere denuncia ma la possibilità che attraverso la visione di un film c'è la possibilità come è accaduto anche nella platea del dibattito qualcuno che può dire pubblicamente senza vergogna io sono stata una bambina abusata. Ecco questa possibilità ci permette di poter continuare a far sì che i messaggi che vogliamo veicolare siano per la protezione totale del bambino. Un bambino non può essere abusato e la pedofilia è un crimine e non possiamo dire che non è un crimine. Un bambino non è un crimine e non è un crimine e non è un crimine e non è un crimine.